Si rinnova il parco mezzi della Polizia Municipale di Arezzo con nuove auto e moto che andranno così a supportare le attività del corpo. Qui vedete 8 autovetture Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD che sono state allestite con le insegne di istituto, a queste se ne aggiunge una che non viene allestita con i colori di istituto per cui verrà utilizzata per i servizi cosiddetti di Polizia Giudiziaria. Vedete 4 moto Honda che si vanno ad aggiungere a quelle precedenti che sono arrivate a dicembre del 2016. Quindi un parco mezzi completamente rinnovato, nel giro di un anno praticamente tutti i mezzi sono quasi completamente nuovi. In arrivo anche un furgone Opel Vivaro che avrà la funzione di ufficio mobile che è in allestimento e un teleraser che invece è già in funzione. I nuovi acquisti si vanno così ad aggiungere a quelli già fatti dall'inizio del mandato dell'amministrazione Ghinelli, ossia due auto micra e quattro moto. È un modo per dotare il corpo di Polizia Municipale di mezzi più efficienti, più moderni, anche da un punto di vista estetico più ragionevoli. E questo testimonia il grande impegno che l'amministrazione ha messo anche a livello economico nel supportare il corpo di Polizia Municipale. Quindi mezzi ma anche uomini. Voglio ricordare che si è appena concluso il concorso per l'assunzione di sei nuovi vigili che tra breve vedrà la luce il concorso per ufficiale, per trovare ulteriori due unità di ufficiali. E quindi insomma il peso che noi mettiamo anche economicamente su questa polizia interna è importante, come peraltro è importante il tema della sicurezza che loro riescono a svolgere.